e potete schiacciare in un belga una foto che tu hai fatto di un sacchettico là nel comitato che è del signore da una ruota stavo guardando il gruppo c'è messo i bini Exactly Grazie 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 Non ti attacca ne che niente. Merdo. Grazie. Ne mettevo due. No, è rosso che è verde. La palla, il pallino. E poi è un po' in qua la rossa. C'è il pallino e la rossa, è un po' in qua verso la verde. Non è proprio sotto sotto, è un po' spostante. Io ci darei da di qua invece. Sempre rosso. Non è sempre rosso. Non è sempre rosso. Non è sempre rosso. Non è 4 minuti, non è cambiato. E rimasta sotto? Non è cambiato la posizione, non è sempre rosso. Non è sempre rosso. È anche girato a casa, è vero. È anche qui, allì. Noi, non abbiamo il problema. Non abbiamo il problema. È quello. È quello. È quello. È quello. È quello. È il problema. Oh.